fine che vabbè morivo un attimo no ma siamo ravana contro ravana che palle ma si parte subito con lo scudo al massimo? si te l'ho detto prima ma perchè medusa non ce l'ha? perchè si vede che keffry è spawnato a sinistra e medusa a destra vabbè così vicino devi stare minchia io devi stare un sacco vicino e almeno vieni a destra almeno è andato ad un attimo per capo eccomè eccomè ma ma dura un tot peccato beh si c'è un buff dura i 10 secondi 10 secondi infatti la strat mi sa che ci ci mette tutti i mid no io pensavo che fino a quando lo buttano giù e ti rimane la strat è che ci ci mette tutti i mid con keffry che scilla e poi ci va eh buh ecco cosa c'hai oh fatti il backup te me lo faccio io il backup me lo faccio io non perdo ne con hp paradigma start peccato che questo in realtà lo start è solo mid però non ditelo a nessuno ok anche se siamo in europa quindi è diventato il paradigma stai dietro chiè e vén dietro vén dietro vén dietro non prendono il mio uso solo un basic poi ritorna subito uso solo un basic poi ritorno subito L'ho fatto 110 Not kidding Uh, questo è morto bro È morto Lo reslow, lo reslow, è mortissimo bro Ho visto cos'hai da una zaccola Faccio logicali Che non puoi? Come hai fatto per tutta quella vita ai minion? Eh sì, mi stavo tancando Ah già, te l'ho detto Viene Pessione Dai perché suddisted in guzzle 3 E abbiamo sceglato la wave Ma intanto io c'ho la kill Questo non lo sai che io c'ho la kill e lui no Ma è come l'ho resto Dai, va a assaggiare carlando, regà Ma è un miti viett Ma si pigliate l'elaport Buono, cad' le tre Sì 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 Eh Che se non riesci a clearare Come on bro You can do it Uguale tanto Fai la 3 alla 1 e hai clearato bro Aspettami a pulire a meno Senza scala No vabbè l'importo Focco pure Oh mio dio Mi sono mai vengono a destra occhio Pupu Strano Che strano Non ci capita mai Sono tutti con me No Pauro Rabaniello One man level under Mi copia l'abilità Ma dovete che la faccio io la fa anche tutto Ah sì perchè la prima lane è biancerata Però non è quello Rectual Ok adesso sono mortissimo Sono mortissimo Sono mortissimo Forse era scuccito Ora si rimane Non è un po' Non è quel punto Non è proprio Nessuno Non è proprio Unurman Mi spettacolo Ma non è un po' Buon Si Well Tutto 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 Non è vero Tutto 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 be right ok a mighty sword on my way a mighty sword enemy missing right be careful ok on my way on my way attack middle lane on my way attack middle lane I am invincible fare thee well ruoto come cyclone ragazzi ecco ma l'avevi parata con la 2 ecco darkness take them did they really think they could overcome the night excellent excellent indeed a mighty sword a mighty sword a mighty sword è il gioco è il gioco si si chiudere non c'è il gioco non c'è il gioco gank middle lane gank facciamoci facciamoci a mighty sword il ragazzo attra la acqua quagmisse acqua quagmisse No, il poteterno è tornato. C'è Kali che viene a destra, penso. Eh, non lo vio non la distruggo. Non lo vio non distruggo tutto, adesso. C'è Kali che. Un'enero è morto, certo? Un'enero è morto! I'mo in my way! Cancel that! Un'eneroe per un'eneroe per un'eneroe. Un'eneroe, ultimo, da! Hai! I'm returning to base No problem Be right there Please No problem Enemies have returned to base Oh, I don't have ult, but I don't have to do it To me, my brethren It's the ultimate The tracker No, I'm not going to do it I don't have mana, guys Eccolo I'm going to go there Now You rock You have done well I'm going to go there I'm going to go there That's too bad That's too bad Attack! 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 You're middle tower, Johnny! Attack! Sì, ha log Capri Sì sì, l'ho detto, c'ho log a 3 Ah, ho ha shoppato, regà, io no Poi di lui a teleport, come lo faccio anch'io dai, cioè se no ogni volta lui può shoppare io no Forza mi fa Dio si, la tua torre è sotto attaccato I quei riddance You rock Sorry Did they really think they could overcome the night? Sorry, sorry Enemy missing Cap di sinistra nooo guardando questa danfila va il dato va il dato bella bella ah mi si fa non ho mano al full beat eh no si 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 gli eredi penso di si comunque ma guarda sti minio prendo l'over c'è il tuo bro arrivo non c'è la wait ma quanto cazzo può uscire questo se non ci sono non ci sono solo i kill ah si recallo che sennò succede come prima arriva con un item in più non ci sono No, non andare lì, non andare lì No, non andare lì Dici che non uccidiamo? Ah va, lo sto faitando, hai perduto l'uad Ho stato usato due No, non riesco a fare la torre, secondo me Faccio la terra e poi il ruoto in casa Stiamo ovunque, non c'è? Eh, usciremo in quattro questa wave No, non riesco a fare la torre No, non riesco a fare la torre Non riesco a fare la torre Non riesco a fare la torre E' su una di tutti C'è una X su tutti Ah no, non riesco a fare la torre Ah no, non riesco a fare la torre Ah no, non riesco a fare la torre C'è una bizzze strosse No, non riesco a fare la torre Non riesco a fare la torre Non riesco a fare la torre No riesco a fare la torre C'è una pituita Che다� beauty ... ... ... ... ... ... ... ... Cosa cazzo ha fatto a farmi tutto il suo damage? Pfff, oh no, mi ha shootato Ha fatto il suo Geffrey Pfff, oh no, mi ha chiuso Attack the gold fury On my way I'll attack I'll attack I'll attack Keep a close eye on things A mighty sword I'll handle this Attack Attack That's not how you can a mighty sword retreat retreat l'arrivate tutti ragazzi ma secondo me era buonissimo invece ma la mano l'istatua shottavamo era completamente sola da solo l'ho portato al 40% l'ho portato al 40% l'ho portato al 40% l'ho portato al 40% vabbè che fria instant clear 2-1 instant clear bella l'ho portato l'ho portato l'ho portato via sinistra l'ho portato ma i due sono right ragazzi non so fare cosa i due sono right ragazzi non so fare cosa hanno word everywhere dai c'è c'è un campetto lo portato Ah ricollo Ci sono due persone lì Due a sinistra Catherine in trouble Arriva anche l'inbook Cazzo si piga abbiamo pickuppato la decisa Ah che culo di merda Starlust Give him to the knight A mighty sword Attack middle lane Attack Attack Yes Attack 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 no 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 quella nuova meta è diventata possibile per quanto giunghiere c'è sempre la jungle non ho mai idea di sapere quando non ho capito in tre minuti per il barro spiegel no scusate, un minuto e mezzo ah vai devo scioppare 2500 e arriva adesso la vana mi distrugge in me ne aiuto la fa il campetto è passato lì per me è passato lì per me a mighty sword on my way on my way on my way on my way caldo è tipo left si è infatti tipo la arriva a posizione attacca I love it when it thrones Your team has destroyed our left enemy tower Yes, thanks A dragon must be feared Attack the gold fury On my way, Ultiman is ready The dark dark Take them A mighty sword Attack 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 I'll see me full I have like 15 minutes that I don't like Ma infatti la tua ulti è utile solo sui tanker certo, tanto non ha più senso sui restanti Ma utile, dove vai adesso? Oh che fa dei danni assurdi sui tanker, quanto è che ti faccio il più danno di te scherzo? Si è vero, hai superato! C'è Poseidon, c'è Poseidon! Ah cali cali, bruttissimo, sarò mortissimo Guarda attacca troppo! Ah final, sted Si è rubato le difese Si è rubato le difese Ancora da un altro pan Guarda attacca! No, guarda attacca! 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 Vi farà gli occhi! Cass, guarda! questo giusto continuare a tirare i cracker su di me, mi sa che non gli ho spiegato come funziona ok, ok che ritro? che ero? Ma loro giungla se la fanno sempre, anche mentre perdono le fenici Ma è morto, è in caldo No, ma l'ha giumpato la 1, era mortissima Con Kali Capri ci hanno avuto 8 viti Divermente Ma cos'è che è una f***a Che a max range quando facevi la 3 non broccava Adesso è pronto Non fa un troppo schifo, buffiamolo Dio Ah, Medusa stanno facendo una nuova build raga Non so perchè adesso da DC dicono che questa build è broken Non si fanno critici, dopodichè si fa la titanbane e... Ah, ma in effetti su quelli che fanno danno di attacco di skill, come Medusa fa benissimo Ecco male quella build